Tu, chiudi la porta dietro di noi! Prenditi cura di Ciube! Occhio alla spinta, andiamo alla velocità della luce! Ma com'è possibile? Leggetevi lì dietro! Informa il primo ordine che Han Solo ha il droide che vogliono e che è a bordo del Millennium Falcon. Il droide verrà presto consegnato alla Resistenza, guidandola così all'ultimo Jedi. Se Skywalker tornasse, i Jedi risorgerebbero. Leader Supremo, sono io responsabile. Generale! La strategia ora deve cambiare. L'arma è pronta. Ritengo sia il momento di usarla. Distruggeremo il governo che sostiene la Resistenza, la Repubblica. Senza i suoi amici a proteggerla, la Resistenza sarà vulnerabile. E la fermeremo prima che arrivi a Skywalker. Va! Sovrintendi i preparativi. C'è stato un risveglio. Lo hai percepito? Sì. E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. È nelle mani di tuo padre, Han Solo. Lui per me non è niente. Lo vedremo. Lo vedremo. Ciao. 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 Ciao.